Una panchina gigante all'ombra dell'arco di Santo Stefano. Martina Franca si prepara così a festeggiare San Valentino, immergendosi anche quest'anno in un'atmosfera romantica. Da Piazza 20 Settembre a Piazza Roma, a Corso Vittorio Emanuele fino al cuore del centro storico, Piazza Maria Immacolata e nelle vie dello shopping, sono allestiti tanti punti selfie per cittadini, turisti e visitatori, cuori rossi luminosi, luminari a tema e messaggi contro la violenza sulle donne. E poi un omaggio al Festival della Valeditria, con le parole della Norma di Vincenzo Bellini, che aprirà questa cinquantesima edizione in un allestimento selfie in Piazza Maria Immacolata. Non solo per celebrare l'amore e la festa di San Valentino, ma anche per dare risalto alla città stessa, al nostro centro storico, in effetti Innamorati a Martina. Innamorati a Martina è un invito a tutti per venire nella nostra città, oltre che a trovare un amore fisico, sentimentale, bisogna trovare l'amore per questa città. E con il calare della sera diventa tutto ancora più affascinante, l'atmosfera magica delle luci e le tante iniziative spontanee di cittadini e residenti per ravellire il centro storico. L'idea iniziale è proprio quella, diciamo che quella di San Valentino era una scusa, non è che manchino le iniziative a Martina Franca, assolutamente. Però noi abbiamo pensato tre anni fa questa manifestazione in un periodo particolare, cioè febbraio, quando c'è meno movimento, di trovare un modo di portare la gente qui a guardare quanto di bello questa città offre con il proprio centro storico, senza essere campanilisti, ma realmente uno dei più belli d'Italia.